La svolta nelle indagini poche ore dopo il ritrovamento del corpo della 31enne con l'esecuzione di un provvedimento di fermo di indiziato di delitto a carico di un 34enne bracciante agricolo di Poggio Marino, ma nativo di San Valentino Torio, che il giorno stesso della scomparsa della donna l'avrebbe uccisa colpendola alla gola con un coltello da cucina al culmine di una lite per poi gettare il corpo in un pozzo vicino casa sua, lì dove è stato trovato ieri, dopo averla avvolto in una coperta. Luana Rainone, 31 anni, di San Valentino Torio, è stata uccisa dal suo amante. La donna, sposata con una figlia piccola, si era allontanata da casa per raggiungerlo il 23 luglio scorso. Uscita intorno alle 14 di lei, non si era saputo più nulla. Da allora è stato incessante l'opera dei carabinieri del reparto territoriale di Nocere Inferiore, su disposizione del procuratore della Repubblica, Antonio Centore, che ha coordinato le indagini. Testimoni, analisi di registrazioni di impianti, di videosorveglianza, intercettazioni, pedinamenti, perquisizioni, sono state determinanti, fino all'interrogatorio di ieri, che ha confermato i sospetti. Sequestrata quella che potrebbe essere stata l'arma del delitto, un coltello da cucina, ed il cellulare della donna, che era stato buttato poco distante dal luogo del delitto. Il movente, di natura sentimentale. Sembra che la donna volesse uscire dalla clandestinità di una relazione che durava ormai da tempo. Chiedeva al suo amante di lasciare la sua compagna, con cui aveva avuto dei figli, e di vivere con lei. Ne sarebbe nato un diverbio, culminato con l'omicidio. In base al quadro indiziario, il 34enne, che aveva precedenti penali, è stato accusato di omicidio volontario ed occultamento di cadavere. Arrestato è stato trasportato presso la casa circondariale di Forni a Salerno.